Ciao, io sto finendo liceo classico e non so ancora cosa vorrei fare da grande. Perché dovrei scegliere economia? Ciao, uno degli aspetti più interessanti da studiare l'economia è che ti aiuta a comprendere i meccanismi economico e sociali di tutti i giorni, ad interpretare e approfondire tematiche di attualità, quali per esempio la sostenibilità, e offre sbocchi in tanti settori diversi, sia pubblici che privati. Wow, forte! Ma perché in altre università di economia si specializzano già da subito e voi a Padova, no? Perché Padova vuole offrirti tutte le competenze e tutti i linguaggi dell'economia, così da avere una base solida e capire in quale settore sei più interessata. Infatti, il terzo anno, in base alle due preferenze, potrai specializzarti in uno dei sei percorsi, tutti in inglese. Inoltre, potrai fare sempre il terzo anno un tirocino in azienda, così da metterti alla prova nel mondo del lavoro. Ok, ora ho capito. E ti chiedo anche un'altra cosa, ma le lezioni sono tutti i giorni come le superiori? No, la settimana universitaria a Padova si sviluppa in tre giornate piene, più una quarta a metà. Questo ti permetterà di avere tutto il tempo necessario per studiare ed esercitarti. Ottimo! Ma oltre alle lezioni ci sono anche delle altre attività? Sì, ce ne sono tantissime. Il dipartimento ti mette a disposizione molti servizi e organizza diverse giornate, come per esempio quella dedicata alla possibilità di studiare all'estero o di fare uno stage in azienda. Si potranno inoltre incontrare aziende, fare colloqui, visitarle e fare collaborazioni. Inoltre, periodicamente vengono organizzate anche testimonianze con ospiti provenienti dal mondo del lavoro. Quindi Padova e il dipartimento ti vogliono offrire un'esperienza fatta non solo di lezioni, ma anche di tante altre opportunità. Ok, grazie, che bello! Ma senti, visto che hai citato all'estero, a me piacerebbe fare un'esperienza di studio internazionale, però ho un po' paura che questo rallenti il mio percorso di studi e non vorrei perdere troppo tempo. Tu hai fatto qualche esperienza e qualche consiglio da darmi? Sì, studiare all'estero è un'esperienza bellissima e il dipartimento di economia ha accordi con università provenienti da tutto il mondo. Io infatti ho avuto la possibilità di studiare in Austria, in Portogallo e addirittura in Cina e questo non mi ha mai rallentato con gli esami e non ho mai ritenuto una perdita di tempo. Comunque, se non riesci ad andare a studiare all'estero, non ti devi preoccupare, perché ci sono tantissimi studenti provenienti da tutto il mondo che vengono a studiare a Padova e quindi avrai la possibilità di studiare in un contesto molto internazionale e fidati che è bellissimo. Vabbè dai, mi hai quasi convinto, proverò il test. Grazie! In bocca al lupo! Ciao! Prefi, ciao! Grazie!